E' finita 1 a 1 l'attesa sfida fra il Monteranaro e l'Ancona al termine di un incontro ben giocato da entrambe le squadre che ha offerto un bello spettacolo al numeroso pubblico a corso di Monteranaro sebbene c'è il rammarico per l'assenza dei tifosi dell'Ancona, a dirvi il vero un paio di centinaia di tifosi bianco-rossi sono ugualmente giunti a Monteranaro ma non sono potuti entrare allo stadio, quindi è stata una bella partita, peccato per il pubblico mancante dal capoluogo d'Orico. Iniziamo allora il racconto del match con la prima azione all'undicesimo, punizione dalla sinistra di Viti con i gialloblu che reclamano per un tocco sospetto in area bianco-rossa ma sulla ribattuta c'è il fuorigioco fischiato dal direttore di gara, direttore di gara che è stato molto contestato soprattutto per alcune decisioni prese nella seconda parte del match. Al quattordicesimo è l'Ancona che si rende pericolosa con un'insidiosissima azione di Argiolas che è un Pagliarini, il giovane portiere under, riesce a respingere con difficoltà. Argiolas sarà al termine del match il più pericoloso del fronte d'attacco bianco-rosso. Al ventottesimo è sempre lo stesso Argiolas che si produce una buona discesa e la retroguardia del Monteranaro libera con affanno. Trentaseisimo l'azione più pericolosa da parte della squadra bianco-rossa con l'Ancona che colpisce il palo. Azione di Cercaci, deviazione di Elia Santori e palla che va a sbattere sul palo con Pagliarini che riesce poi a recuperare. Proprio alla fine di quest'azione il portiere under del Monteranaro si infortuna e questo condizionerà la partita degli uomini di Mister Minuti che dovranno effettuare due sostituzioni in quando il portiere under ha dovuto lasciare il posto a Prioletta, l'esperto numero uno gialloblu oggi con il numero 12 e ha dovuto sostituire Cazimbo che è entrato a posto di Diamanti. Inizia la ripresa e subito il Monteranaro a rendersi pericolosissimo. Al secondo è l'azione più nitida con Sandà che incredibilmente a tu per tu con Recchi si divora una ghiottissima palla-golle calciando addosso al numero uno bianco-rosso. Passano cinque minuti e l'Ancona che torna a rendersi insidiosa con Argiolas che batte una punizione da ottima posizione con Prioletta che si fa subito vedere con una deviazione providenziale in calcio d'angolo. Ancora Argiolas al quindicesimo a provare la conclusione vincente dalla linea esterna destra ma il pallone finisce sul fondo e al ventinovesimo arriva il vantaggio della squadra di casa del Monteranaro. Tulli è precisissimo a raccogliere un bel suggerimento dell'esterno Guidi e al volo insacca le spalle di Recchi. L'esultanza del pubblico e dei giocatori dura appena 60 secondi perché poi c'è una punizione sulla linea sinistra del campo, una punizione contestata da parte dei giocatori gialloblu. A questo punto vicino alla palla si avvia Argiolas che anche in questa occasione è stato molto attento. Argiolas pesca un pallone preciso al centro aria Cremona e Cremona l'attaccante Dorico fa la deviazione vincente con la palla che si infila alle spalle di Prioletta. Quindi al trentunesimo arriva il pareggio dell'Ancona. Risultato sostanzialmente giusto, supremazia territoriale dell'Ancona, rammarico per gli uomini minuti per essersi trovati in vantaggio e subito recuperati.